Salve carissimi amici, tutto Bucky, Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti, se è la prima volta che venite a visitarla quest'oggi parliamo di Batman volume 2 The Batman of Gotham Chip Zdarsky ha i testi purtroppo, Mike Hawthorne ha le matite che non sono il massimo ma sono sicuramente indubbiamente meglio dei testi per un secondo arco narrativo di Zdarsky che dire che mi abbia lasciato più perplesso del primo volume e dire poco dove eravamo rimasti alla fine del primo volume? che cosa era successo alla fine del primo volume? durante il primo volume? fondamentalmente è successo che Batman ha affrontato il pinguino il pinguino è morto quindi si è diffuso la voce per la quale Batman avesse ucciso il pinguino e in virtù di questo si è attivato Failsafe che cos'è Failsafe? è un robot che è stato realizzato, progettato da Zurenar la versione di Batman, il backup di Batman che si dovrebbe attivare per salvaguardarlo da certe determinate situazioni Zurenar era un personaggio creatore generalmente da Grant Morrison qui Zdarsky lo riprende in realtà come concept, come idea il backup che si attiva nel caso in quale stanno cercando di violare la mente di Batman è ancora un concetto abbastanza interessante però secondo me già nel primo volume avevamo deviato completamente nello scontro che c'è stato con Failsafe Batman ha perso una volta sono stesse cose completamente no sense l'ha riaffrontato con Robin perché laddove Batman e Justice League falliscono Batman e Robin nella testa di qualcuno dovrebbero avere successo non si sa nella testa di chi e infatti fallisce e a Batman viene sparato Failsafe spara a Batman ed è qui che comincia questo The Batman of Gotham e come comincia in realtà ne parliamo dopo la sigla Batman si risveglia a Crime Halley il vicolo nel quale sono morti Martha e Thomas Wayne ai tempi che furono il famoso quartiere nel quale è successo quello che è successo siamo a Gotham ma durante lo scontro con Failsafe non eravamo a Gotham ma c'è immediatamente qualcosa di strano qualcosa che non va Batman capisce anzi Bruce Wayne capisce piuttosto in fretta che non si trova nella sua Gotham City si trova in un'altra realtà in un'altra dimensione in un altro mondo in un qualche modo la pistola di Failsafe non l'ha ucciso l'ha scaraventato in un altro mondo ora se il piano di Zurenar e di Failsafe come si poteva intuire in una qualche maniera nel corso proprio di Failsafe è quello di dimostrare che Batman può essere una versione migliore di se stessa e che non c'è bisogno di lui tant'è che effettivamente nell'interregno che c'è stato mentre che Batman era alle prese nel combattimento con Failsafe era stato Failsafe a diventare un po' il vigilante di Gotham per quanto si sia visto praticamente nulla però lo possiamo accettare quindi perché mandarlo in questo specifico mondo? forse per dimostrargli che lui è completamente inutile che lui non serve quindi dovrebbe trovarsi in un po' luogo paradisiaco questo avrebbe avuto senso questo avrebbe avuto il suo perché questo avrebbe portato Batman a pensare sul fatto che la sua figura sia inutile e invece finisce in un mondo dove i principali villain di Batman in particolare il primo che incontriamo fin dalle primissime pagine e due facce per quanto sia sano e si chiami Arvidente giustamente ma che fa uso di Venom per potenziarsi e non solo lui anche altri villain più o meno classici utilizzano il Venom per potenziarsi quindi sono i cattivi di Batman in una versione sotto steroidi e niente Bruce Wayne cercherà di indagare viaggerà in giro per la città per cercare di capire chi possa governare la città come fermare i criminali trovare il modo di poter tornare ad essere se stesso tornare ad essere Batman perché lui è vero che atterra col suo costume di Batman ma ormai è un costume un po' mal ridotto un po' mal andato e quindi se vorrà essere se stesso avrà bisogno di rifarsi in una qualche maniera il costume e dopo essere fatto il costume i gadget e quant'altro cercare di capire se in quella Gotham possono esserci degli alleati tra le persone che lui conosceva nella sua realtà e quali personaggi possono essere i suoi villain tra l'altro il villain scelto all'interno di questa storia non sembra avere un piano sensato decente razionale è un voglio fare caos per fare caos perché sì il villain scelto è per quanto potenzialmente interessante è orchestrato guidato da fortuità in maniera a livelli altissimi in un modo che quasi non potevo crederci e andando verso il finale della mini diventa ancora più assurdo tutto quanto tutto il piano del villain cosa fa cosa non fa che cosa vuole fare in che modo vuole provare a farlo perché rendere tutto così tremendamente complicato ma non è solo complicato ma è anche macchinoso cervellotico in cui tutto può andare storto ma per volontà dell'autore tutto fila liscio come l'olio ma del finale del capitolo 135 ne parleremo tra non troppissimo anche se non scenderò troppo in dettagli perché in parallelo a questa che è la storia principale in questa Gotham di un altro universo c'è la bake up la bake up su Tim Drake che in questo momento sta indagando per cercare di capire che fine ha fatto Batman perché sai gli hanno sparato il suo corpo si è disintegrato davanti ai suoi occhi ma giustamente non può essere morto e per forza di cose finite in un'altra realtà complimenti per l'intuizione cioè subito ci arriva sta cosa e in aggiunta a questo capisce in una maniera completamente contorta che c'è qualcuno che per quanto non provenga dal mondo nel quale Batman è finito lui può capire tramite quel personaggio come fare ad arrivare eh? non l'ho capita non l'ho capita mai nella vita sta cosa cioè che che Tim Drake non è che dici è intelligente ragiona dietro sta cosa no lui fa ragionamento successivo ma senza indizi per arrivare all'indizio successivo è come se vi dicessero ah il pane pesa x al chilo e te arrivi a capire che per qualche arcano motivazione la carne venduta nel reparto di fianco al panificio costa una certa cifra ma lo capite perché vi ho detto quanto costa il pane come fai a capirlo come fai a saperlo c'è un rapporto tra le due cose no non c'è un rapporto diretto tra le due cose quindi c'è qualcosa che non mi è mai tornato in tutto questo arco narrativo ma ok c'è questa backup e poi c'è il capitolo 135 che è il novecentesimo capitolo di Batman come testata quindi contando tutta quanta quella che per Marvel sarebbe la legacy quindi tutte quante le serie di Batman quindi la prima serie iniziatta nel 1940 poi la serie dei New 52 la serie del Rebirth e non credo che ci siano altre serie siano solamente queste tre quindi Batman è uno dei personaggi che ha meno serie in assoluto tra tutte quante le cose Batman in quanto testata raggiunge il capitolo novecento e abbiamo sta idea che boh giunge fin troppo in fretta fin troppo velocizzata per il quale Chief Zarsky decide di rendere omaggio a tutti quanti i Batman famosi e così cioè proprio Batman famosi in un capitolo che è lungo è lungo perché è un capitolo extra size ma del resto era il novecentesimo capitolo di Batman quindi ci stava potesse essere extra size non è quello il problema e che è un extra size che dopo un po' ti scoccia veramente tanto per inciso è il primo capitolo New Dawn ed è il quinto capitolo di un arco narrativo non so come si possa capire il quinto capitolo di un arco narrativo e presentarlo come primo capitolo di un rilancio editoriale vabbè cose va bene ce lo facciamo andare bene e tutto il capitolo è un lungo viaggio tra le dimensioni per cercare di fermare definitivamente il villain tra l'altro tutta questa cosa di ci sono altre dimensioni viaggiamo attraverso le dimensioni facciamo cose è una cosa che ti giunge un po' così di punto in bianco è vero che Batman cioè Bruce Wayne è finito in quella dimensione dove è finito per via di failsafe quindi sai già che prima o poi ci sarà un viaggio interdimensionale e ci sta ma non ti aspetti che l'ultimo capitolo sia costantemente un viaggio continuo perché finora ti aspetti una storia molto urbana molto d'indagine molto investigativa molto urbana perché te l'hanno presentata così e poi l'ultimo capitolo è un'altra roba e quindi sei un attimino confuso un po' delirante in una qualche maniera però accetti perché dici vabbè siamo in un ambito super eroistico mi può far andare bene qualunque cosa sì resta il fatto che il modo nel quale Batman viaggia è completamente fuori di testa tant'è che sulla base del fatto che sia una cosa completamente fuori di testa si crea il problema del finale di questo numero ma si crea una situazione nella quale c'è un dilemma etico che deve risolvere come? in che senso? cioè tra l'altro tra l'altro se si è creato questa situazione qui se si è creata la situazione che si è creata ci sono due punti secondo me nevralgici Batman è partito non pronto per la situazione che si avrebbe dovuto affrontare ed è il primo punto il secondo è che Batman fino a un certo punto voleva andare a fondo voleva fare quel voleva violare la sua regola numero uno non ci sono alternative solo che all'ultimo ci ha ripensato beh se no non si spiega se no Batman non partirebbe così Starsky che cacchio stai scrivendo e niente poi il finale il finale finale del 185 è letteralmente la fiera del del drammone che viene risolto in 2-2-4 perché si cioè hai creato il drammone per niente per due pagine il capitolo 136 in realtà è quasi più interessante è un interludio un interludio che dopo averci raccontato cioè dopo cioè ci mostra un po' le conseguenze di quello che è appena successo però nel frattempo ti porta un po' avanti anche alcune sottotrame alcune cose viste nei capitoli in failsafe ti porta avanti un po' le relazioni con i personaggi ti fa capire che non tutto tutto è proprio pulito pulito liscio liscio quindi in un qualche modo si fa apprezzare ma arriva dopo un arco narrativo che è completamente fuori di testa nel senso più sbagliato del termine non è quel fuori di testa che ti senti galvanizzato è quel fuori di testa che ti viene a dire ma che cosa sto leggendo ma perché sto perdendo tempo a leggere sta roba e me lo sono chiesto in realtà già da failsafe già da failsafe non ero contento di quello che stavo leggendo su Batman e con Batman perché? perché non ci stavo trovando e non ci stavo leggendo assolutamente il personaggio di Batman e nonostante questo ho voluto darci un pochettino di fiducia visto che Zdarski è stato abbastanza celebrato per quello che ha scritto attualmente in Marvel per Daredevil per quanto aperto e chiuso parentesi io il primo spillato di Daredevil ho fatto fatica a finirlo però mi sono detto magari è il personaggio che non è le mie corde non è l'autore che non mi fa piacere le cose è il personaggio che per quanto abbia un mood relativamente affine a Batman e quindi che dovrebbe piacermi dovrebbe potenzialmente piacermi ok può darsi che non mi piace perché alla fine non mi piace il personaggio ci può stare magari uno pensa ti piace perché ha delle cose che ti possono piacere ma poi scopri che non ti piace ma no con Batman mi sto arrabbiando mi sto arrabbiando con l'autore per quello che sta scrivendo non è normale non è sana sta cosa non è sana e sinceramente io ho arrivato a questo punto perché dovrei andare avanti con che coraggio vado avanti nella lettura di Batman o meglio c'è una parte di me che mi dice che voglio andare avanti perché voglio capire come vuole giostrare la questione con Zurenar perché indubbiamente è un'idea un concetto intrigantissimo il problema è che me l'hai già storpiato così talmente tanto rispetto a Morrison e non sto dicendo che Morrison è assolutamente un genio non lo si può toccare non si può fare nulla del materiale che egli ha creato ok non sto dicendo questo però indubbiamente se si va a toccare una materia abbastanza strana abbastanza delicata abbastanza singolare complessa a suo modo bisognerebbe farlo un po' con diciamo i guanti nelle mani e tenere le cose abbastanza a debita distanza e sapere che cosa si voglia scrivere prima di cominciare a farlo questo è The Batman of Gotham non non vi consigliavo failsafe peggio ancora mi sentirei a consigliarvi questo Batman di Zdalski questo secondo volume secondo me è stato veramente una perdita di tempo sotto tantissimi punti di vista è totalmente fanservice celebrativo il capitolo novecento ma che da solo non si capisce perché manca tutto il background per poterci arrivare e tutta la parte prima in realtà come storia urbana ci può anche stare non è troppo problematica però è tutti i concetti che si porta dietro che non la fanno funzionare secondo me fino a fondo credo che Zdalski voglia provare da un lato a riprendere Grant Morrison alcune idee di Grant Morrison ma al tempo stesso voglia dimostrare ai lettori e a Batman in una qualche maniera qualcosa che era comunque affine a quello che Tom King volesse raccontare e il fatto è che Tom King e Grant Morrison l'hanno già fatto e l'hanno già fatto molto meglio di così e questo è quanto avevo da dire per voi per oggi video che sto vedendo dal minutaggio di essere diventato forse un filo fin troppo lungo rispetto a quello che pensavo almeno inizialmente ma mi dovevo sfogare mi dovevo sfogare dopo aver letto e dopo aver lasciato sedimentare in realtà perché è passato diverso tempo da quando l'ho letto quindi temevo anche quasi di non ricordarlo The Batman of Gotham ditemi nello spazio dei commenti se l'avete letto visto che comunque questo arco narrativo è già uscito in Italia quindi ditemi se l'avete letto se vi è piaciuto se non vi è piaciuto se ho perso dei tasselli io perché può essere che abbia perso dei tasselli fondamentalmente magari sono molto meno bravo a leggere in inglese di quanto non pensi quindi magari ho perso proprio quel balone essenziale per capire questa storia ma nel caso ditemelo parliamo ne discutiamo insieme nello spazio dei commenti di Youtube da Francesco dalla soffitta di Camera Mia è davvero tutto e noi ci vediamo in una prossima video opinione del canale ciao